In questo lavoro noi cerchiamo di guardare un po' quelle che sono le origini della recente stagnazione del capitalismo italiano e il nostro punto di partenza sono gli anni 90, in particolar modo l'inizio degli anni 90. E la nostra lettura di quel periodo, ovviamente è la nostra interpretazione, ci può essere più o meno d'accordo, è che in quegli anni si è un po' maturata l'idea e la consapevolezza che per superare quelli che erano i primi segnali di difficoltà del capitalismo italiano fosse necessario implementare una serie di riforme che per quanto possibile potessero avvicinare quanto più possibile l'economia italiana al modello delle economie liberali di mercato. E questo è stato realizzato attraverso un'ampia serie di riforme che ha guardato diversi aspetti, si è intervuti sul mercato del lavoro con inizialmente l'abolizione della scala mobile nel 92 e poi i primi interventi che hanno introdotto flessibilità nel mercato del lavoro, riforma del sistema creditizio, riforma del mercato dei beni, riforma in parte del diritto societario, apertura del commercio internazionale e non ultimo l'accelerazione del progresso di integrazione europea con l'ingresso alla fine degli anni 90 nell'euro. E la logica che spingeva questa serie di riforme era una logica che prevedeva che una maggior mobilità dei fattori produttivi avrebbe concesso alle imprese di ottenere guadagni di produttività, in un contesto di apertura al commercio internazionale questo avrebbe permesso di guadagnare competitività sui mercati internazionali, quindi di sfruttare meglio le economie di scala, che all'opposto nei sistemi di piccola impresa che si erano sviluppati precedentemente non erano sfruttate al meglio e questo avrebbe concesso di ottenere ulteriori vantaggi di efficienza e quindi innescando una sorta di crescita virtuosa e potenzialmente sostenibile nel tempo. Il nostro punto però è che il funzionamento di questa serie di innessi causali si basa su due precondizioni importanti, la prima è che ci siano fattori produttivi facilmente trasferibili e la seconda è che ci sia un'organizzazione della produzione che sia propensa a sfruttare al meglio le economie di scala. Il nostro argomento è che nessuna di queste due precondizioni effettivamente era soddisfatta dalle caratteristiche del capitalismo italiano così come era emerso dalla fine degli anni Ottanta. Primo perché le risorse produttive e soprattutto il lavoro avevano caratteristiche fortemente specifiche all'impresa piuttosto che al settore come nel modello tedesco o relativamente poco specifiche come nel modello di capitalismo americano. E questo cosa significa? Significa che in un contesto di risorse specifiche il trasferimento delle risorse tra imprese è comunque costoso anche in presenza di piena flessibilità dei fattori produttivi perché comunque le risorse devono essere riadattate a quelle che sono le caratteristiche specifiche di ogni impresa. Secondo, l'organizzazione della produzione nei sistemi di specializzazione flessibile e nei sistemi di piccola impresa era un'organizzazione molto più propensa a sfruttare l'economia di specializzazione piuttosto che l'economia di scala. E il passaggio dalle une alle altre non è così automatico come tendenzialmente a volte si tende ad assumere. Quindi il risultato qual è stato? È stato che anziché favorire il convergere dell'impresa verso un unico modello di impresa medio-grande, competitiva e attiva sui mercati internazionali, queste riforme hanno in realtà prodotto degli incentivi piuttosto divergenti per quel che riguarda le strategie delle imprese. Da un lato le riforme sul mercato del lavoro, tenendo in considerazione quell'elemento di specificità che vi dicevo prima, hanno portato come effetto principale la possibilità di ottenere importanti risparmi sul costo del lavoro. Ad esempio, questo grafico vi fa vedere l'andamento dei salari relativi rispetto alla media europea d'Italia, che è la linea in basso, rispetto a Germania e Francia nel periodo di cui vi sto parlando. Ci osserva che effettivamente a partire dagli anni 90 c'è stata una forte riduzione dei salari italiani rispetto ad esempio a Francia e Germania. E questo cosa ha creato? Ha creato un incentivo per le imprese meno produttive per poter recuperare profittabilità attraverso il basso costo del lavoro, anziché attraverso investimenti in efficienza e in crescita della produttività. Allo stesso tempo però le riforme di cui vi ho parlato prima hanno creato anche incentivi, se vogliamo dire così, virtuosi. Ad esempio l'apertura del commercio internazionale in un contesto di crescita dei paesi emergenti ha portato ad esempio alla possibilità di ottenere importanti opportunità sui mercati internazionali in termini di export, soprattutto per le imprese in grado di esportare prodotti di qualità. E se guardiamo la performance dell'export italiano in termini di qualità, come si vede in questo grafico, effettivamente l'export italiano ha fatto molto bene. Quindi la nostra lettura di questo andamento è stato che di fatto quello che si è generato nel corso degli anni 90 e poi si è accentuato negli anni 2000 è stato che c'è stata una sorta di polarizzazione negli orientamenti competitivi delle imprese. Alcune imprese che noi stimiamo intorno al 20% del manifatturiero, quindi comunque un numero non piccolo di imprese, si è orientato verso una strategia virtuosa di concorrenza basata sulla qualità e caratterizzata da investimenti in capitale fisico a capitale umano e export. Un'altra parte dell'impresa che noi stimiamo intorno al 35% invece del manifatturiero ha adottato una strategia completamente opposta, vale a dire concorrenza basata sui costi, pochi investimenti in capitale fisico e capitale umano e ampio ricorso a forza lavoro poco qualificata ma al contempo a quel punto anche poco costosa. Un altro gruppo di imprese invece, diciamo il 45%, quindi le rimanenti, è rimaste diciamo in una strategia un po' a metà tra questi due poli. Ora, qual è stato l'effetto aggregato di tutto questo? È stato fondamentalmente duplice. Da un lato, e vedete il grafico sulla sinistra, è stata una stagnazione della produttività aggregata. La linea rossa è l'Italia, la blu e la gialla sono Francia e Germania. Stagnazione della produttività aggregata che per i rò è spiegata da cosa? Dal fatto che i guadagni di produttività delle imprese, per così dire, buone, quelle di qualità, è stata più che compensata in senso negativo dall'andamento invece negativo della produttività delle imprese meno buone o quelle basate sui costi. Questo cosa ha generato, e questo secondo diciamo andamento aggregato, ha generato un forte espansione o crescita dell'eterogeneità tra le performance di imprese. Il grafico qui sulla destra fa vedere la dispersione intrasettoriale della produttività, quindi qua stiamo parlando di imprese all'interno dello stesso settore, e quello che si nota è un ampliamento molto forte della dispersione, quindi ad imprese che sono andate molto bene se ne sono associate altre che sono andate molto male. Ora, perché secondo noi, e con questo mi avvio a concludere, perché secondo noi questo è un tema, è un argomento importante, e quali sono due possibili contra-argomentazioni? Secondo noi è importante perché se questa lettura è corretta, in realtà l'interpretazione che si dà del declino italiano come un fatto sistemico che ha coinvolto tutto il sistema produttivo, è una lettura forse eccessiva in senso negativo, nel senso che quello che si è osservato in realtà è stato l'effetto composito di due dinamiche molto diverse, tra imprese e, ripeto, un quinto del manifatturiero, che sono andate molto bene, e imprese che sono andate molto male. E questo ha anche qualche impatto sulle implicazioni di policy, su cui dirò qualcosa tra pochissimo. Le due contra-argomentazioni quali sono? Primo che in realtà l'eterogeneità esiste in tutti i sistemi produttivi, cioè in tutti i modelli di capitalismo ci sono imprese che competono sulla qualità, imprese che competono sui costi, e quindi la domanda è qual è l'aspetto innovativo. La seconda contra-argomentazione è che in realtà l'esistenza di eterogeneità non è incoerente con un declino generalizzato del capitalismo, soprattutto se sia le imprese di qualità che le imprese di costo perdono competitività rispetto alle imprese estere. Per quanto riguarda questo secondo punto, in realtà noi abbiamo alcune evidenze, abbiamo fatto qualche esercizio, in cui abbiamo comparato le migliori imprese italiane, quelle di cui parlavo prima, quel quinto, le imprese manifatturiere, con le migliori imprese tedesche, assumendo che queste siano l'impresa alla frontiera. E in realtà non c'è grande differenza, né in termini di produttività, né in termini di investimenti in capitale fisico, né in termini di investimenti in capitale umano, né tantomeno nell'export, anzi, alcune volte le imprese italiane fanno meglio nell'export. Ovviamente dove c'è grande differenza è tra le imprese meno buone, che nel caso italiano sono molto peggiori delle imprese meno buone tedesche. Per quanto riguarda invece il primo controargomento, diciamo, cioè il fatto che eterogeneità c'è sempre, è vero, sicuramente, c'è sempre, c'è sempre stata eterogeneità nel capitalismo italiano, ma quello che noi abbiamo osservato è che questa eterogeneità è cresciuta molto negli ultimi vent'anni. Secondo diverse dimensioni, ad esempio, se noi guardiamo ai differenziali salariali, salariali, questi sono i tre gruppi di imprese di cui vi parlavo prima, sono cresciuti molto negli ultimi vent'anni, tra le imprese qualità e le imprese costo. La stessa cosa è vera se guardiamo ai differenziali di investimento, anzi, in questo caso è ancora più accentuata la differenza. Cioè le imprese di qualità hanno investito molto di più delle imprese costo, ed è vero anche, ovviamente, per quanto riguarda i differenziali di produttività. L'unica variabile in cui all'opposto c'è una tendenza che è convergente, anziché di crescita dell'eterogeneità, è la variabile profitto. Se noi guardiamo all'andamento del differenziale di profitto tra le imprese buone e le imprese meno buone, quello che si è avuto in questi vent'anni, soprattutto nella seconda metà degli anni 90, è una significativa riduzione di questo differenziale. Ora, segnalo che se in un sistema economico esiste un crescente differenziale di produttività e un convergente differenziale di profitto, questo crea un grosso problema, perché significa che il sistema economico è sempre meno in grado di selezionare, attraverso un meccanismo di mercato, le imprese buone dalle imprese cattive, perché i differenziali di profitto sono molto bassi. E perché sono bassi? Perché ovviamente le imprese meno buone possono sfruttare molto agevolmente il basso costo del lavoro poco qualificato. Ora, quali sono le implicazioni di policy di questo discorso e con questo chiudo? Sono che se questa lettura è convincente, diciamo, il recupero di un percorso di crescita passa inevitabilmente dal creare le condizioni per cui un numero crescente di imprese trovi conveniente spostarsi su una strategia di qualità e un numero minore di imprese trovi conveniente spostarsi su una strategia di costo. E questo passa da due cose, rendere il ricorso a basso costo del lavoro più costoso e rendere gli investimenti in conoscenza, in capitale umano, meno costosi. Per quanto riguarda il primo, ad esempio, due forme di intervento che potrebbero ottenere quel risultato sono l'introduzione di un salario minimo e l'introduzione di negoziazioni che leghino produttività e salari ex ante, piuttosto che ex posto. Per quanto riguarda invece il costo degli investimenti in capitale fisico-umano, ovviamente in questo caso gli interventi sono facilitare l'accesso a capitale umano, recuperare partnership pubblico-private in progetti innovativi e non ultimo anche facilitare il ricorso all'offerta e la capacità dell'impresa di assorbire capitale manageriale che in Italia a volte è piuttosto scarso. Con questo concludo, grazie.